Noi siamo Ragneri Cantieri Nautici, il gruppo facente parte è Antonio Ragneri, che è quello che ha creato il gruppo Ragneri, la Nautica Ragneri, nasce tutta da Antonio Ragneri, che è il pioniere della nautica, ha definito infatti il re dei motoscafi, non per nulla. Abbiamo sede, abbiamo il cantieri Nisca sullo Ionio, con sede naturalmente a Soverato, perché noi veniamo da Soverato, siamo su scala industriale ma nasciamo come artigiani, quindi prestiamo molta attenzione a tutti i particolari. Noi lavoriamo con l'estero, c'è molta richiesta dai paesi, sia dai Balcani che dalla Spagna, dalla Francia, dal nord Europa, abbiamo numerose richieste da tutta Europa. Al Salone Nautico vengono esposti i nostri modelli di punta, quest'anno presentiamo il nuovo Giubileo, che è una imbarcazione dal design eccezionale. La nautica calabrese è comunque un fiore all'occhiello della regione, ci sono delle realtà rappresentate in questo spazio espositivo molto importanti e il contributo regionale serve a spingere ancora di più, serve a darci comunque l'aiuto a continuare, la prontezza a rappresentarci nelle manifestazioni internazionali, quale il Salone Nautico di Genova, perché è molto importante per noi. Partecipare al Salone Nautico l'anno precedente ha aggiunto al nostro gruppo di clienti un buon 20%. La presentazione della collettiva è stata meravigliosa, è una spinta in più e soprattutto è un grande salto di qualità per la regione Calabria e quindi per tutte le imprese calabrese. Io credo comunque che partecipare con una rete di impresa dia maggiore sicurezza al cliente finale e anche all'impresa che è estera, che si avvicina al gruppo italiano. La mia regione mi ha dato tanto e mi ha dato tanto tutti i giorni, quindi quello che per me è importante è portare l'impresa avanti e rimanere in Calabria. In premio per così dire della collettiva durante il Salone Nautico presentiamo un'imbarcazione che ormai sono 20 anni che produciamo, però sempre rinnovata in diversi style, che porta il nome del mio paese, anzi il nome della mia cittadina, porta il nome Soverato e quindi Ragneri ha portato Soverato per il mondo e ha portato la Calabria per il mondo. Soverato